le interviste di web radio italiane. Eccoci qua, ben trovati. Oggi web radio italiane punto it intervista gli amici di DJ Fox Radio Station. Cuckù! Ci siete? Buonasera. I due Danieli, i Daniele Damiani e Daniele Magro. Oh, che bel logo, eh? Tra i due chi è il più magro? Chi è il più magro? Secondo me quello con la barba. Bravissimo. Esatto. È tutto rovesciato, è tutto rovesciato. Vedi com'è il gioco della vita? È la nostra società, no? È rovesciata. Giusto, giustissimo. In questo periodo. Oh, eh? Così si vede bello direi. Ma è veramente bello, eh? Chi l'ha disegnato? Poi passava un ragazzino qua fuori che si diverte a fare murales sui muri e allora abbiamo detto ma perché non ci fai un bel murales a noi proprio col nome della radio? Ha accettato la cosa ed è venuta fuori questa bella cosa. E questo è il logo che è presente nella nostra sede che è a Cologno-Monzese ovviamente. A Cologno-Monzese, eh ragazzi? A Cologno-Monzese, eh? Come mai a Cologno-Monzese? Sono curioso. Ma perché chi ha deciso di aprire questa radio è di Cologno-Monzese. Vedi, vedi che io sto invecchiando male, eh? Ormai lo sanno tutti, eh? È proprio così. Raccontateci un pochino della dei vostri inizi. Io sono andato a vedere il vostro sito, cioè per leggere il sito, le vostre cose che avete fatto, mi c'è voluto mezz'ora. Eh sì, direi di sì, nonostante siamo piccolini, però in sette anni abbiamo cercato di far conoscere il più possibile la nostra, la nostra mittente, la nostra, la nostra passione nel fare la radio e qualche evento ha giocato un po' dalla nostra parte per poter raggiungere comunque un pubblico ad oggi abbastanza notevole. Ricordiamo che noi siamo veramente molto piccoli, abbiamo solo sette anni compiuti da qualche giorno a questa parte, quindi stiamo cercando di muoverci in un mondo in cui in Italia ad oggi ancora non è molto facile muoversi, però noi ci proviamo. Eh ma avete esperienza, eh? Voi siete due furbacchioni con tantissima esperienza. No, perché io lo so, io ho sguinzagliato i servizi segreti, voi siete due furbacchioni con tanta esperienza. No, no, allora innanzitutto noi ci divertiamo a fare questo, tra virgolette, non non nascondiamo neanche di dirlo, è un nostro è un nostro secondo lavoro, è come se fosse un hobby, no? La passione per la radio portare avanti un'idea editoriale, un un progetto che lega tanto questa emittente che è DJ Fox Radio Station al territorio, quindi è un po' il tornare tra virgolette all'attualità di oggi però con la mentalità delle radio locali di trent'anni fa, quindi di servire tantissimo il territorio e di essere comunque attuali nelle argomentazioni, nei contenuti dei nostri format, nella scelta musicale, insomma in tutto quello che comunque tra virgolette abbraccia il mondo radiofonico. Vero, vero. Poi con il web si arriva dappertutto oggi, eh? Quella è quella la cosa bella, che paradossalmente noi abbiamo pochi ascoltatori da Cologno, ma tanti dall'America. No, sto scherzando. No, non è vero, no, però. Ma mi volete prendere in giro? Di solito sono io che prendo in giro, stasera ribaltiamo le, eh? La faccia. Il magro era lui, quindi ribaltiamo anche la situazione. Guarda, noi abbiamo avanti tutta, vai. Tanti ascolti dall'estero, tanti ascolti dall'America, dalle Americhe, anzi dall'Australia e dall'Asia in questo periodo. Infatti questo ci ha portato anche a definire le nostre repliche in modalità notturna, quindi eh si può ascoltare i nostri programmi in replica proprio durante la notte, tutto il corso della notte. Dove qua è notte, ma dall'altra parte del mondo è giorno. Esatto. Vedi? È tutto ribaltato, io lo sapevo. È tutto ribaltato. Voi siete dubbi. Siete dubbi. Brava. Siamo una stessa testa che ragiona con due corpi diversi. Esatto. Ma io sono curioso anche delle vostre due storie. Chi inizia? Sono interessanti. Allora per me ci vorrebbe un tanto tempo. Non so se avete guarda noi siamo qua a braccia concerte come a scuola. Ti ricordi all'elementare? Abbraccia concerte. Va bene. Allora dai parto io. Niente io semplicemente arrivo da un passato radiofonico ventennale. Eh ho avuto la fortuna di lavorare per parecchie radio locali e soprattutto ho avuto anche la fortuna di lavorare per le due situazioni che ci sono in questo momento che è l'FM e il web. Dopo tanti anni di FM ho deciso di iniziare tra virgolette questa nuova avventura che è quella di dedicarmi solo alla web radio. Quindi dimenticando un po' il discorso dell'FM andando un po' controcorrente perché ad oggi eh la web radio diciamo che comincia in questo momento a fare un attivino un po' di rumore a farsi sentire ma fino a sette anni fa quando quando è nata DJ Fox eh la cosa era vista un attivino un po' ancora come una cosa molto difficile da poter raggiungere. Mano mano le cose sono andate sempre migliorare e ad oggi ci permettiamo comunque che tra virgolette di vivere questa realtà con un passato appunto radiofonico anche in qualche occasione a livello nazionale non lo non lo posso nascondere e basta quindi porto tutta la mia esperienza tutto quello che conosco nel mondo radiofonico dentro questa questa emittente nuova. Io invece ho iniziato con una web una web radio che faceva parte di un forum ti ricordi prima ancora di Facebook e l'avvento di tutti questi social c'erano i forum e quindi abbiamo creato insieme anzi un mio amico ha creato questa radio mi ha coinvolto è un mio amico che tra l'altro fa parte di DJ Fox Radio Station in questo momento. Poi ci arriviamo vai avanti. Mi ha coinvolto in questo progetto e abbiamo fatto cinque sei anni c'è stato un piccolo periodo di stop poi ho colto l'occasione del della nuova di questa radio di dell'avvento di questa radio perché tramite un'altra conoscenza tra la marea di gente che c'è qui a DJ Fox Radio Station sono entrato siamo entrati a far parte di questa famiglia perché comunque noi ci definiamo una famiglia una vera famiglia. Ci vogliamo bene seriamente ci vogliamo bene seriamente no è ora vi volete bene seriamente. Io di questo se mi permetti vorrei ringraziare chi ci ha dato l'opportunità di poter mettere in campo tutta la nostra esperienza che sono naturalmente i due soci che hanno creato questa radio che vorrei appunto salutare e ringraziarli se posso Flavio Zagato e Oscar Pavanello se non se loro non ci avessero dato tutta questa fiducia e tutta questa voglia di far crescere questa realtà noi non saremmo qui questa sera a parlare con voi. All'altro due persone con grossa esperienza. Grazie ancora grazie ancora sì cerchiamo veramente di fare il possibile. Raccontatevi un po' del vostro sito fateci girare un pochino dentro no che poi veniamo a trovarvi. Ma allora io guarda lascio la palla a lui perché per quanto riguarda la roba tecnica siti social tutta questa roba qua se ne occupa io se dopo vogliamo parlare della radio parliamo con me. Allora il sito che vedete ora www.djfoxradio.com è stato fatto durante la nostra quarantena durante la quarantena che si è tenuta in Italia abbiamo deciso di rivoluzionare tutto quello che era il sito vecchio e l'abbiamo fatto come lo vedete ora lo sfondo bianco molto molto diretto perché comunque dobbiamo cercare pensiamo che dobbiamo cercare di coinvolgere le persone e avere un filo diretto con noi di djfox radio station infatti c'è la possibilità di mandare messaggi mandare messaggi agli speaker direttamente dalla loro pagina perché poi comunque ogni speaker ha la sua pagina ogni speaker per ogni programma la sua mail quindi è molto ben definito ben strutturato e siamo siamo molto contenti ci piace molto questo sito vero? Molto contenti e poi è molto semplice cioè per esempio se ci fai caso le prime cose che tu noti quando apri il sito e sono i tanti metodi che puoi raggiungere che puoi utilizzare per poter raggiungere l'ascolto della nostra radio. Vero, vero. Basta un click, basta semplicemente seguire alcune istruzioni ed è molto semplice per poterci ascoltare. seconda cosa c'è c'è tutta la nostra faccia quindi c'è il palinsesto ci siamo noi ci sono i programmi ci sono gli eventi c'è la nostra storia insomma andate anche a visitarlo se posso se posso dire anche la mia sotto questo punto di vista. Noi andiamo a visitarlo ma raccontateci un po' anche i programmi la mattina inizia con la mattina aspetta la mattina qua e la notte là vai la mattina qua e la notte là la mattina inizia da me non tutti i giorni però c'è Portineria Fox che è un programma mattutino che nel fino fino a poco tempo fa iniziava alle sette e mezza alle sette e mezza alle otte e mezza si chiamava Portineria Fox la faccio insieme a Tiziano Scerbo Luigi Grana e Fabio Scalise che sono sono tre altri tre altri speaker della radio Portineria Fox lo dice il titolo stesso è un format radiofonico dedicato a tutto quello che succede qua all'interno della radio quindi i due i loro due sono i portinai e settimana per settimana presentano un po' tutto quello che è la settimana radiofonica di DJ Fox quindi ospiti interviste curiosità e quant'altro noi programmi che partono perché poi ogni settimana parto un nuovo programma all'incirca periodo ormai e quindi stiamo è quel risveglio leggero frizzante che ognuno di noi quando esce da casa propria vorrebbe come compagno di viaggio per poter arrivare sul posto di lavoro casinaro più che leggero e frizzante casinaro divertente divertente sì anche perché ti spiego Furio la nostra è una radio per scelta ad oggi che non ha proprio un palinsesto uguale tutti i santi giorni noi cerchiamo tutti i giorni di proporre cerchiamo tutti i giorni di proporre grazie alla scelta comunque dei nostri format e dei collaboratori della radio di proporre qualcosa sia di diverso ogni argomentazione ogni contenuto all'interno dei format è varia a giornata quindi lunedì c'è Portineria Fox che fa l'apertura al mattino c'è un programma durante il primo pomeriggio che si chiama quello che viene viene dove lo dice programma stesso è un programma di mezz'ora dove succede veramente quello che viene viene come ci hai detto prima furi esatto no è carino è carina c'è un programma alle nove di sera durante la fascia diciamo del del serale che è dedicato solo alla musica rock rock selection fatto da un grande esperto collaboratore di noi che è bruno brunelli e ogni giorno ha una situazione diversa di questa abbiamo un programma di intrattinamento abbiamo programmi che riguardano la salute il benessere veramente di tutto una nostra classifica personale dove andiamo a prendere quali sono i 30 brani più programmati della settimana la vostra classifica personale bello mi piace vi sganciate un po' curate da Daniele Damiani che sono io personalmente a farla oltre io a curare una fascia che va in onda tutti i giorni dal martedì al al venerdì dalle due alle tre e mezza con un programma che si chiama magazine dove effettivamente facciamo un sacco di casino cioè proponiamo quella musica da braccio fuori dal finestrino finestrino abbassato volume alto che bello ma siete proprio io la vedo la positività vedo il sole ecco a voi mi grazie mi piace tanto un po' sganciarsi dal territorio oscuro e aprire al bianco al bianco positivo ma l'idea di tanti anni fatti di radio è quella di cercare in questo momento di ritagliarsi uno spazio in un mare veramente talmente grande che quasi sembra impossibile poter arrivare dall'altra parte e quindi il fatto di proporre un po' di diversità è il nostro punto di forza ed è quello che ci porta avanti naturalmente più andiamo avanti più ci adattiamo ai passi attuali delle tempistiche che sono quelle attuali che sono fondamentali ad oggi per poter sopravvivere e cerchiamo tra virgolette sempre di dare un sorriso a chi ci ascolta dall'altra parte del mezzo qualsiasi sia il mezzo te ha detto tutto lui guarda ho fatto apposta un secondo di silenzio apposta no guarda ha detto ha detto tutto lui se dici tutto te ma infatti adesso vi vi saluto vi saluto addirittura no te rimani qui app ne avete? app ne abbiamo abbiamo la nostra applicazione per ovviamente per android per iphone per apple e in questo periodo abbiamo anche sviluppato le app per sia per alexa che per tutto il circuito di android quindi abbiamo tantissima selezione anche sotto questo punto di vista la novità di questo di questo periodo è stato anche la radiovisione ovvero i programmi possono andare in i nostri programmi possono andare in radiovisione direttamente sulla nostra sia sulla nostra pagina youtube che sulla nostra pagina facebook quindi abbiamo abbiamo dotato i tre studi delle webcam di di alcune webcam e possiamo andare direttamente questa è una grossa soddisfazione no? dicevate no bisogna stare al passo con i tempi anche se la scommessa è grande ma il web veramente è aperto tantissimo il web è un universo anche puoi comunque fare cercare di fare qualsiasi cosa poi comunque sta a noi cercare di portare un il mondo a casa il mondo a casa nostra come dicevo prima ritagliarsi uno spazio perché qua semplicemente si tratta di ritagliarsi uno spazio poi da cosa nasce cosa se max fuochi che salutiamo in regia ciao max non faccio una battuta calcistica se no mi mi mangia cosa sta a succedere? noi e lui ringraziamo sempre max mi dice sempre non parlare di calcio perché come apro bocca tac eh dipende un po da che parte stai eh sì no io sono viola sono viola sono pratese ho capito andiamo oltre parliamo di aggregatori dai noi siamo web italiane punto it aggregatori beh oltre alla vostra partnership noi ci avvaliamo anche comunque di un altro aggregatore che posso fare il nome non è pubblicato è radio speaker da radio speaker da noi sono arrivati parecchi parecchie persone tra virgolette che ad oggi collaborano con noi che comunque ci sono state segnalate direttamente da loro e comunque anche grazie a loro abbiamo avuto l'opportunità di partecipare a due eventi importantissimi che hanno messo anche risalto un attimino un po la nostra immagine una è stata proprio quella organizzata a Milano e Radio City di qualche anno fa l'ultima in ordine di tempo quella fatta nel duemiladiciannove a Roma per il web radio festival italiano eh là c'è stata la nostra partecipazione quindi noi ci siamo parecchio appoggiati anche questo aggregatore per poter tra virgolette anche la ritagliarci un piccolo spazio poi cerchiamo di fare un po tutto per i fatti nostri cioè nel senso che non ci non non ci mettiamo con troppa roba ne cerchiamo due o tre che secondo noi ci possono essere possono essere quelli giusti sperando che siano quelli giusti e ci affidiamo tanto anche alle loro consulenze ultimamente eh ci avvaliamo anche della collaborazione di consulenza radiofonica che è un altro portale che comunque presumo che conosciate tranquillamente quindi non sono forse siete un po concorrenti non lo so però sono due o tre non non ho idea sinceramente non conosco bene di che cosa di che cosa trattate bene proprio a cento per cento però sono sono questi tra virgolette gli aggregatori di cui ad oggi sono nostri collaboratori io alzavo gli occhi al cielo no per spingerti il suggerimento sono nostri collaboratori va benissimo noi siamo tutti bravi eh oh ma no sì ho notato no se no vengo vengo di là no 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 l'ho notata l'ho notata tanto che comunque noi abbiamo scelto adesso anche per dirvi uno spot realizzato da voi che noi mettiamo in testa a tutti i nostri format in onda è vero sì è verissimo è vero ecco no fate vedere il naso il naso è come l'immagine quindi questo non si può aggiungare facciamo io vi ho detto stasera la connessione è così andiamo a naso lasciamo perdere sembra quello spot che voi avete realizzato che dice questo emittente fa parte del gruppo web radio italiane noi lo mettiamo in testa a ogni nostro format siete gentilissimi eh è vero è così è la pura verità collaboratori e collaboratori collaboratrici però non mi piace mica tanto mi sembra una cosa amici e amiche che trasmettano con voi mi piace di più amici e amici partiamo da chi c'è adesso in onda perché adesso in onda dallo studio uno qui dietro il nostro logo c'è roberto carlisi e roberto è stato il terzo classificato in un italia's got talent del duemila e di qualche annetto di qualche annetto fa e e roby fa un programma che si chiama ciao roberto tutti giovedì sera e e e parla un po della del mondo della televisione della televisione di tutto quello che riguarda sì quel mondo la televisione infatti da lui nel suo programma si possono ascoltare certe chicche di non so per dirti ti faccio alcuni nomi di personaggi etter parisi raffaella che ad oggi non vengono minimamente calcolate a livello radiofonico da altre tantissime altre emittenti a noi abbiamo questo piccolo spazietto glielo diamo oltre a lui molto carino poi avanti siamo curiosi a noi ma di possiamo parlarti per esempio dei nuovi ingressi ultimamente ultimamente stiamo cercando di non dico ringiovanire un attimino un po' il nostro settore radiofonico ma stiamo puntando tanto sui giovani tanto che uno degli ultimi ingressi io sono già tagliato fuori eh per loro io sono ma tu sai che i giovani sono il futuro no quindi bisogna poi io dico sempre la mia età si legge al contrario 25 sicché io sono perfetto quindi l'ultimo ingresso fatto proprio negli ultimi nelle ultime settimane è un ragazzo di 19 anni giovanissimo secondo me molto talentuoso e speriamo magari di fra un paio d'anni di rincontrarci e ridirti ma ti ricordo di quel ragazzo che parlavo adesso è finito su una grande emittente ma aspetta voi diventerete una grande emittente no? Ma noi siamo già una grande emittente. Oh ve lo volevo sentir dire perché avete detto tutto 20 minuti se siamo piccoli siamo piccoli se non ve la tiro fuori col forci. Noi siamo già una grande emittente per quello che ci avete due sedi. Esatto. Esatto. Tre studi nell'altra sede sei studi quanti? Allora noi abbiamo due studi qui a Cologno Monzese e uno studio a Torino. A Torino c'è un luogo che si chiama CPG che è un centro polifunzionale giovanile della città di Torino ovviamente dove ci sono una decina di altri speaker. Altri speaker collaboratori che realizzano una dozzina di format anche loro. Quindi c'è questo scambio veramente assiduo tra Milano e Torino. Noi cerchiamo di andare da loro più e più volte nel corso dell'anno. Loro vengono qui quindi c'è questo scambio. Poi comunque con tutta la strumentazione che abbiamo possiamo... Riusciamo tranquillamente comunque anche da quei studi a rendere comunque un format piacevole nell'ascolto. Infatti i format che vengono realizzati a Torino sono molto carini. C'è l'ora dei fatti che è fatto da Mauro Giacchino e da Manuela che è un programma che tratta solo di gossip quindi è molto simpatico. Ganzo, mi piace. Ganzo, l'ho detto in toscano, scusate. Mi piace. C'è un altro programma che si chiama Walkman Generation fatto da Marco che è un ripassare praticamente tutto quello che ha fatto grande rumore negli anni 90 e negli anni 2000. Ci sono veramente tante belle cose. Ultimamente c'è una produzione che si sta occupando di fare un grandissimo speciale su Fabrizio Di Andrè, si chiama Fabercast, un altro grande programma. C'è un Alessandro Delfino che si occupa di fare un programma che si chiama Quel bravo ragazzo. Lui doppiatore cinematografico quindi vale veramente la pena di ascoltarlo. Marzolla che fa un programma serale buonanotte che proprio ti porta alla buonanotte quindi ti metti un viaggio della musica. Un viaggio della musica. Che bello. Tante di queste cose. Un programma dedicato solo fatto qua da Milano all'Ukulele. Si chiama Intorno all'Ukulele. Un programma che tu pensa che quando mi è stato presentato non gli avevo dato tre mesi di vita. Sono cinque anni che in onda. Vedi? Ha fatto. Cioè siete lanciati anche cose sperimentali. Sì. Tendiamo a farlo. Oltre che avere anche una fascia dedicata comunque anche al mondo dei club. Per esempio faccio un altro nome e un altro programma che è Electric Place che penso che sia uno dei pochi programmi mixato dove la musica che viene selezionata all'interno di Electric Place è musica fatta proprio direttamente dal DJ. Quindi non musica che trovi. Mi piace. tutte produzioni fatte completamente da lui e le portate poi in un mixato in un set che va in onda per un'ora durante la settimana. Bello. Veramente bello perché c'è c'è anche la veramente la voglia di fare anche l'estrosità la capacità insomma è la tecnica da che che mettete in onda in diretta e alla fine. Ci proviamo ci proviamo e fino ad ora qualche numero è dalla nostra parte tutti i giorni vediamo sempre un aumento quindi un un piacevole riscontro e speriamo che veramente tutto vada come deve andare sai poi le idee sono tante siamo in tanti le idee sono veramente tante quindi ci saranno anche delle novità per il futuro si può dire. Avete utilizzato il termine numeri con me non lo dovete fare perché io voglio sapere. Insomma diciamo che sono numeri che da questa ad oggi per l'investimento che è stato fatto per quanto riguarda questo emittente rispondono tranquillamente a tutto quello che è stato pensato all'inizio. Ma lo so lo so non vi volevo mettere assolutamente in difficoltà lo so benissimo. No 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 ci mancherebbe altro. Vi voglio chiedere le web radio nelle auto come le vedete? Magari è una cosa semplicissima è solo è solo una questione di abitudine mentale è vero la gente quando entra in macchina si deve scordare di alzare la manovella dell'autoradio ma deve semplicemente schiacciare con un click l'applicazione della propria web radio. Avete visto che non siamo inferiori a nessuno. Quindi sono i passaggi elementari. Io dico sempre non abbiamo concorrenti non facciamo concorrenza stiamo nel nostro mare coinvolgiamo anche le fm ma noi siamo di più. Ma speriamo. No no sì sono d'accordo con te sono d'accordo con te. Non sono non parlo solo della nostra emittente ma comunque sul web veramente ad oggi si possono trovare tante realtà. Ma sì c'è tanta creatività naturalmente ci sono cose assolutamente sperimentali e anche un po' limitate ma d'altra parte se non iniziamo a sperimentare non si cresce mai. Questo questo non vuol dire no che l'fm più l'fm meno. Naturalmente come hai detto te ognuno di noi si ritaglia il proprio spazio il proprio articello e cerca di farlo crescere. Poi se vengono le collaborazioni con chiunque benvenute benvenute. Certo benvenga benvenga tutto. Cioè alla fine anche la nostra partecipazione a due anni consecutivi al festival di Sanremo ha fatto la sua parte per quanto noi possiamo essere tra virgoletti considerati una web radio. quindi è. Tra l'altro tra l'altro io ho proprio utilizzato il termine se poi qualcuno vuol collaborare voi avete scritto collabora con noi come si fa? Ma semplicemente scrivendoci tramite il nostro sito o direttamente a una mail che è demo chiocciola djfox radio punto. Naturalmente viene tutto preso in presa visione viene ascoltato viene valutato e anche semplicemente con una spiegazione che potrebbe essere un no comunque in ogni caso vieni ricontattato le mail non finisce. Con no stecco? No se mi dici no stecco mi fai rimanere male. Io me lo aspetterai da Damile Damiani. Purtroppo devo dire la verità anche anche l'orecchio vuole la sua parte. Certo. Cioè che non dai motivazione sei un professore no? Due tre uno e mezzo no così. No beh motivazione proprio vera e propria no però semplicemente quando c'è da dire purtroppo che la situazione non è adeguata ai nostri margini di radio va detta. Certo certo va detta anche per aiutare chi ti ha inviato il demo. Dato appunto per questo se mi permetti il termine a noi non piace prendere per il culo nessuno. Bravo. Oh la eh ok. È chiaro. È stato diretto. Diretto è molto chiaro. Serate, eventi? Allora per via di questo covid tante e poche cose. Tante poche cose stiamo dico la verità ci stiamo muovendo molto bene per quanto riguarda il duemila e ventuno. Saremo presenti per esempio ad oggi con una unica data certa che è una manifestazione che si svolge qua nel comune di Colonia Monzese che è dedicata un attimino un po' alle associazioni. Eh bravi. La nostra radio tra l'altro è una costola di un'associazione che è presente qua nel territorio quindi per quanto riguarda quella data siamo sicuri di essere presenti in piazza nella festa delle associazioni qua a Colonia Monzese. Ricordiamo l'associazione che fa sempre bene ricordare le nostre associazioni? Casa Fox. L'associazione culturale musicale. Casa Fox. Lo sapevo. Lo sapevo eh. Visto che ci siamo diciamo anche che abbiamo una sala prove e studio di registrazione. Visto che ci siamo. Poi sono piccoli. Questi signori questi signori sono dei gran ganci. Ve lo dico io. Vanno seguiti eh. Attenzione seguiteli abbondantemente. Cerchiamo di muoverci un po' in tutti i campi a livello musicale quindi dalla radio ai corsi ai corsi di musica ai corsi di speaker cerchiamo di fare un po' tutto. Esatto. vogliamo far conoscere alla gente la radio che negli ultimi anni un qualcosa ai giovani di oggi sta scappando vero sta scappando oggi la radio si può anche guardare si può anche guardare quindi noi dobbiamo cercare di riportare i giovani all'ascolto del mezzo radiofonico quindi raccontatemi dei vostri social i nostri social facebook, instagram non vedrai mai foto nude di noi questo è poco ma sicuro no scusa però tutto quello che viene fatto a livello radiofonico viene pubblicizzato attraverso i nostri social dalla semplice intervista all'evento, alla collaborazione alla partnership a qualsiasi cosa ci credete molto nel social? assolutamente si infatti lo stiamo sviluppando tantissimo ancora in questo periodo e andrà avanti così e fate bene e fate bene perché i social vanno anche educati bisogna portare positività e belle cose sui social esatto quello si ma noi semplicemente trasmettiamo quello che facciamo qua in radio e fate bene mi piace esatto non ce n'è allora ragazzi siete due birbanti simpaticissimi veramente le persone che sorridono non mi piacciono sempre poi abbiamo tutte e tre naso per la radio eh che battuta lasciamo correre giriamo pagina 30 secondi io amo far concludere io amo far concludere gli amici che sono qui con noi 30 secondi tutti i vostri a voi la chiusura della trasmissione ma allora vado io mi lasci questa grandissima responsabilità allora io innanzitutto ringrazio il portale web radio italiane per questa fantastica chiacchierata di questa sera speriamo di essere stati coerenti in tutto quello che abbiamo detto l'unico invito è quello di andare su www.djfoxradio.com e da là cominciare a scoprire il nostro mondo ciao a tutti e buon'estate cucù ciao Max registrati al canale youtube di web radio italiane e attiva la campanella grazie a tutti